è terminato l'incontro salutiamo, salutiamo salutando a tutti bravo, grazie bravo, Albert bravo, Albert bravo, Albert gara, 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 gara andate a salutare il pubblico aspetta, aspetta Lola, aspetta mettetevi tutta una fila tutta una fila aspetta il mister dà l'ordine aspetta ecco ecco Lola della squadra 2 a 0 bravi ragazzi bravi bravi Matteo vieni qua che ti devo fare una foto